Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad essere in questo nuovo video di Tiny Tina salto alla rocca del drag, va bene ho fatto un giro per cercare di salire Ho ammazzato uno di questi giganti e ho trovato delle ridi, finalmente non ci posso credere Che cosa bella gradite, salve lei, non mi piace il tuo cazzo sa, io glielo dico e poi dopo le si regola Ok, bello tosto eh Perfetto Vai vai vai, muorici che è meglio Perfetto Perché ho voluto prendere questo, perché anche se fa meno danno almeno Diciamo che è più Dopo le soddisfazioni Cosa molto meglio, ok sto cercando di capire dove, come salire Quindi mi toccherà fare un giro atomico per riuscire ad arrivare, adesso vi faccio un bel giretto Ritorniamo dove eravamo di sopra e ci vediamo tra poco Ed eccoci qui insomma si ce l'abbiamo fatta, devo soltanto capire come Arrivarci, penso e credo da qua Eccoci qua Ok, fatta Fatta vediamo se c'è qualcosa Perfetto, vediamo che qui Quello l'ho preso Ok, adesso dobbiamo andare di qua Perfettico Andiamo pure in gran pompa Vediamo un po' come fare Dovevi vendere un po' di cose Però insomma si Adesso andiamo, gli appacchiamo il culo tutti quanti di nuovo sti cosi Perché palle Oh le Signore abbinuti salve Dovevi dirle due cosine Proprio due due Intanto che loro fanno del male A questi qua Io farei del male a loro Perfetto, salve Un attico Dovrò fermarmi a interrompere tutto Sì, sì, interrompi questo Ok, qualcosina sta facendo Perfetto Adesso penso che lei, signore Lo salve Ecco qua Eh, c'è boia Mi scende pesi un colpo Ma porca vacca Ma c'è altra gente E mi tocca andarci Eh, sennò questi mi fanno fuori Eh, ma che palle Ok, questa è andata So Stregio porto il petalo Ma quanti cazzo siete? Ma che cazzo C'è il raduno di Robin Hood Eh, insomma Adesso vediamo di prendere un po' di cose E siamo a posto Decisamente meglio Solo che un cecchino con fucile La pompa non si può vedere Però, che ci devo fare? Non è colpa mia Non riesco a trovare qualcosa di decente Ok, fatto Adesso andiamo a vedere Di raccogliere un altro C'è un salvataggio Mi fa piacere Andiamo un po', siamo carichi Siamo carichi Ah, è già poco Allora, abbiamo 40 munizioni Veramente poche Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa 48 Ok Mi fa piaciore Chi è? Dove siete? Siete tanti L'avete mai nessuno? Ve lo dico io Scusate Certo che Ne devo tirare tante di punizioni Ed è un livello 4 Io volevo dire solo questo E c'è un fucile a pompa da vicino Vabbè Ah, io userei due talenti Magari succede qualcosa di buono Cosa dite? Allora, vediamo un pochino Andiamo di qua Questo è più precisione Questo cosa fa? A vita precisione Un colpo nemico Aumenta il danno del colpo critico Che dovrei aumentare Io mi rendere di questo E tanti saluti Almeno più precisione Dove sbellarvi meno Allora, vediamo un po' Oh, salve Lei mi piace tanto, sa? Qua la tartina Tina, hai 13 anni Forse dovresti considerare L'idea di mangiare altro Oltre alle tartine Mi sono portata da mangiare Potresti Oddio, cos'è quella? Cosa? È un'insalata Perché verde sembra il diavolo? Dai, calmati Mi sta fissando Allora Vediamo un po' Fucile a pompa Speriamo che sia meglio Che vi devo dire Poi vediamo questo fucile da secchino E questo deve essere meglio per forza Quindi prendiamo questo Ok Direi che è andata Abbastanza Bene Un fucile da secchino Che fa qualcosa Cioè, è un miracolo Mi stanno sparando Allora Dov'è? Qua Vediamo un po' Come va sto fucile Da nevrino No, questo Quello lì Era quello lì Aspetta Perché avacca Si è fatto malo? Eh, vabbè Capita insomma Cosa vi devo dire Allora Mentre loro si divertono Io vorrei andare a vedere un po' di cose Visto che qua ci sono In studio Si sta ricaricando Piano 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 Perfetto Un po' di soldi Fanno sempre comodo Qui c'è della roba Dai, cose così Insomma Ok Perfetto Oh Un po' di munizioni Mamma mia Quanta roba c'è da prendere C'è anche la vita Scusate Visto che c'è La prendo La pangarina Ah, sono pieno Andiamo un po' Aspetta un attico C'è poi Questa roba È da panico Ve lo dico C'è molto Dov'è? Sì, però C'è un Un Mirino Che posso dire Eh È quasi da cecchino a pompa Un po' cecchini Un po' cecchini E' una roba così Del genere E siamo pieni Ok Andiamo pure A vedere cosa prendere Che qui c'era della roba Mi ricordo Vediamo se c'è Però È proprio a pompa Ma da cecchino Però insomma È molto lento Cioè Faccio tempo Sia come Gingorubo Quando dice Tiro pugno di acciaio Quando dice Ah davvero Oh Salve Vediamo la pistola Come possiamo migliorarla 40 La mia fa 71 Cazzo di pistola c'ho Vabbè Vabbè Non ho presi troppe C'è un militario pieno Adesso vedremo Come poter Ampliarlo Ok Io ho fatto Voglio andare via Senza Nessun ritegno Andiamo di qua Di qua C'è altra roba Spero munizioni Grazie Non ne ho bisogno Perché quello del cecchino Effettivamente non l'ho usato Cioè l'ho usato poco E adesso io ho riusato Beh Questo è bello Bello Mi piace Mi piace Mi sono sempre piaciuti Ha salvato Grazie E andiamo A consegnare Una delle quest A quest'ora Siamo pieni Perché Io ho Veramente pochi Adesso Così facciamo Ha un bel caricatore Perché alla fine Mi ha 7 Ah Non posso fare Ok Siamo a livello 6 Non è che sia brutto Come livello Però Possiamo sempre migliorare Perfettico E siamo arrivati Quindi abbiamo Altri 4 quest Sono pochi Quindi possiamo ancora Avere spazio di manovra Per migliorarci Ok Ottimo Mi fa piaciore Io prenderei anche questo Perché ci siamo Perfettico Direi che adesso Siamo a cavallo Devo andare da Erla Appena posso Solo che con 4 Mi si mette A ridere in faccia Se gli do 4 cose Io ridio Però Perfettico Andiamo Eh io li prendo Ste cose Perché avete visto Che si è messi male Di munizioni Perfetto Ok Andiamo a vendere Così ci liberiamo Di un po' di roba E così Almeno facciamo Un po' di soldi Nel caso Dovessimo trovare qualcosa Di veramente buono Vai Eh Eh sì Certo Allora io Venderei tutto A questo punto Tanto abbiamo Molto meglio La roba che abbiamo Esatto E siamo a posto Poi vediamo cosa vende No Meglio il mio A questo punto Ma non c'è niente Di particolare Tu hai l'oro Ho pozioni E armature Sì Più o meno Armature Hai sempre delle caccate Te lo sai Buona fortuna Immaginato Benvenuto al vecchio Emporio dei proiettili Ok Vediamo a posto Fai volare quei proiettili Ah eh Vediamo Ah aspettate Vediamo Vediamo un po' la quest Prima Cosa c'è Allora abbiamo questa qui Che è di livello 5 Sì Va benissimo Livello 5 E a posto Vediamo pure 25 oggetti Ok Siamo quasi a 25 Noi abbiamo 22 Su 25 Così Facciamo i punti Questi Oh Ci sono Riscatta Riscatta Vai Ok Danni Effetto elementare Non è male Danno da arma Prenderei Poi vediamo cos'altro c'è Danno granate Precisione arma Energia massima Anche questo non mi dispiace Lo farei Precisione arma Ma lo farei Danno colpo critico Probabilità effetto elementare Ritardo Vai Danno colpo critico Per effetto Danno colpo critico Capacità scudo Non è male Quindi lo facciamo Cadenza di fuoco Probabilità effetto elementare Ritardo Danno granate Probabilità effetto elementare Non mi dispiacerebbe aumentarlo Quando lo troviamo Danno da arma Cadenza fuoco Danno da arma Forse è quello che vediamo più di tutti Va bene Danni effetto elementare Cadenza fuoco Vabbè Danni effetto elementare Poi Ritardo No Velocità di carica scudo Danno granate Cadenza fuoco Ok Danno colpo critico Ritardo Danno da arma Vai Velocità di carica Carica scudo Danno granate Velocità di carica scudo Velocità di carica Perfetto Io direi che siamo a cavallo E possiamo anche andare Avanti Bene dai Adesso Cominciamo un po' ad esserci Dai E' male come cosa Cosa avevamo 101 di vita Adesso viene 103 Non è tanto Meglio di un caccio Nella palla Dove cazzo devo andare Ma che cazzo di giro Occidenti Fatemi vedere la mappa Va che è meglio E siamo a due passi Vabbè Earl Scusate Ce ne ho un po' Vediamo quante ne vuole Dove c'è scritto 4 E io ne ho No ne ho 4 Lui ne vuole 4 Bene Allora Direi Fucile a pompa Per il momento Abbiamo ancora Che cazzo Io sono un cecchino Aumento il 2 In maniera permanente La quantità di oggetti Che puoi trasportare Mi sembra la cosa migliore Aumento il 3 In maniera permanente Il numero di oggetti Che puoi trasportare Lo zaino Questa è una fretta speciale Di oggetti che puoi Il numero di oggetti Che cazzo cambia Ah questa è la cassaforte E questo qui è lo zaino Eh dai Facciamo questo Per il momento Così almeno Abbiamo un pochino Più di spazio Perché se no È un casino Ci riempiamo subito E poi più spazio abbiamo Più possiamo vendere E più possiamo vendere Più ci facciamo soldi Più ci facciamo soldi E più Quindi sì Chiaro no? Ah c'avevi fatto Prendere un colpo Che cazzo è? Ci rompiamo i baroni Salve Beh decisamente Più per rompente Cosa dite? Eh adesso Vengo che da voi Vai Perfetto Altri? Ma lei ha fatto Un liceo da pane Il signore Ecco ovviamente Però almeno Stare carica È meglio dell'altra Anche l'altra Faccia veramente schifo Salve Lei è molto bello Sa? Ah lei Si protegge anche Con il cudo Ma io Cosa fa? Mi tira l'ascia? Porca vacca Eh Ok Certo Non c'è punto Uno sul piede Eccoci qua No non si fa Così Guardi Gli dico io Come si fa Così Così E così Perfetto Oh Bene Abbiamo fatto un altro Un altro punticino Che mi fa schifo avere Prendi Prendi Che mi servono Dov'è signore? Eh vabbè Caricatore Evidentemente Esiduo Perfetto Vai Oh Andiamo Così mi ha fatto Un altro punto Dopo uso L'oggettono Sì Ah Che carino Ma Ma che cazzo Sta facendo Questo Ah Che bello Va bene Andiamo avanti Andiamo un po' Che succede Perfetto Un po' di roba Vi fa sempre Comodo Prendolo E dobbiamo Andarvi qua Di nuovo Ah è proprio Una zona nuovola Va bene A posto Vai La foresta Oh Che carina Carichiamo E vediamo Entrate Tranquilli Noia Hai ragione Poca troia Ti amine Ora devo trovare Un nome migliore Per la foresta Va bene Ok Qui c'è da vendere Da rifacillarci E' da salvare E' da salvare Mi fa piacere Tranquilli Sennò Poi si può Piacere Vabbè Perfettico Ottico I soldi abbiamo Meglio è Spero di trovare Un po' di La foresta Oltre Sapevo Che non dovevo Fidarmi Degli alberi E' poca troia Vai Aia Mi ha preso Abbastanza Vediamo Un po' Ciao boh Che critico E' da panico Ciao boh Mi fate un bel salto No scusi Di personale Dovemmo Dicinati Eccoci qua Mi devo abituare A questo ricarico Così lento Perfetto Andato Oh ma lei E' nuovo C'è nel senso E' Scusate adesso Ok Ce la facciamo Volendo ce la facciamo Con il cecchino No con questo Grazie Vediamo un po' Scusate Perfetto Sono così lenti Ne approfitto alla grande Scusate A un certo punto Lui se lo chiede E l'abbiamo cecchinato Alla grande Fida completata Mi fa tanto picciore Perfetto Vediamo Vediamo un po' Trovate un gioiello a terra Magari la regina L'ha lasciato per segnare la strada Allora dovremmo seguire i gioielli Ci porteranno direttamente da lei Come dice Big Lily Style Restate sulla strada principale Sarete a posto Lei è un po' Questa foresta è cresciuta Dai cadaveri dei miei nemici Non è un pensiero carino Forse dopo che vi avrò ucciso Cresceranno delle feci da voi Alla gente piacciono Ma ce l'hai Una buona quindi La fatina Ok Perfetto Io andrei avanti Con molta dea emenza Però questa Forse la devo prendere Ok L'ho capito dopo mezz'ora Però Mi fa piacere Io Ti ho Ti ho preso Ok Cosa Mi ha dato un buff Beh mi fa piacere Ma però Dice che devo ucciderla Possibile Mi sembra tanto strano Che devo Vabbè andiamo avanti Adesso Non ho tempo da perdere Oh Un buff di velocità totale Su tutto Mi fa piaciore Però io Devi dirmi anche dove devo andare Perché mi sto Rincoglionendo Allora Qua Perfettico Grazie E adesso andiamo di qua E vediamo un po' come va Seguiamo Le indicazioni Che ci ha dato Però Questo non vuol dire Che non debba Andare a prendere la roba Vai Perfetto Non c'era niente da prendere Diamanti Vediamo un po' Perfetto Non c'è più niente da prendere A prendere Sì sì Mi sta aiutando Lo so Ok E questo è l'altro indizio Allora Andiamo di qua Ci ha fatto Prendere il corpo Oh Cioè poi si è fatto malo Si è fatto tanto malo Lei lo sa Ecco Questo Ad esempio Il figlio secchino qua Non serveva un cazzo Oh salve Opla Non ci vedo un cazzo Con tutti questi Particellari E effetti strani Che ci sono sullo schermo Ok Allora fatemi vedere la mappa Effettivamente Uno indietro c'era Però va a capire Se devo fare un giro Così astruso Perché conoscendo Borderland Eh sì Potrebbe essere Da questa parte Ok Vai Perfettico Ottimo Vai Oh ma siete tanti Scusate Mi sono Caponato 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 Il vero mondo Si è rivelato Ok Ora conosco le debolezze Perfetto Eh lo so La tua corazza Adesso Vediamo come fare Ok Eh perché mi ha Dato Oh non ho visto Cosa ho preso Con le 25 Ammirare Ok E' un'arma rara Ci guardiamo Un attimo solo Allora vediamo l'arma rara Che ho preso Che non ho visto Cosa ho preso Non è che ho tanta roba Eh questa no Questa no 15 per 6 Per carità Però 20 per 5 Sembra un po' meglio Voi cosa dite Allora dobbiamo andare qua Eccolo qui Tartina Presa Adesso andiamo a fare le altre E siamo a posto Bene dai Sono contento Non è difficile Difficilo Vediamo un po' Doviamo andare dritto per dritto Va bene Salve Seguitemi Credo che la regina Sia andata di qua Ah lui vuole che vada qua No voglio finire di esplorarle Per vedere Deve esserci un passaggio Si Il passaggio è là Adesso che tu lo aprirai sicuramente Vero? Ah è proprio qua Scrittura orchesca Dice che bisogna Immergere i manufatti Nei succhi Dei Bla 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 Che importa Sembra che dobbiate solo Raccogliere dei frutti sanguigni Ma che diavolo Cos'è un frutto sanguigno? È una cosa morbida Che cresce sugli alberi di qua Ah che bello Oh ma che c'è una vecchia conoscenza Mi scusi sa Oh porca vacca E chi se lo aspettava Una roba del genere Eh sì Simpatici Eh insomma Avete due polmeroni E vedete Ma nessuno Lo dico due Spate Ok Adesso arrivo Porca vacca Eh adesso moriamo Però facciamo lo scambio di colpi Dai Non siamo morti Perfetto Ce l'abbiamo fatto Peccato che abbiamo una rigenerazione Però meglio di un caccio nelle palle Quello fa sempre male Oh cazzo Però L'ha sentita eh Perfettico Adesso andiamo qua E siamo a posto Ok Dobbiamo salire Come al solito Dobbiamo sempre salire Ecco qua Ho preso un po' di roba Adesso andiamo di qua Oh ma c'è roba qui Arriva arriva L'olipiti marroni Sto cercando di trovare un po' di vita Eh qua L'abbiamo presa Che si è messo un po' malo Vediamo un po' Che qua E siamo piedi Va bene ragazzi Direi che Ci possiamo anche fermare qua Per costruire di tutto Vi vedete come al solito Lasciamo anche un commento Se vi piace la serie Fammi sapere cosa ne pensate Però adesso vedete Un saluto da Siva Ciao 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 ciao